Con questo video vi faccio vedere cosa è uscito dalla mia mente creativa utilizzando quattro gambi, quattro, recuperati da un vecchio tavolino che è capitato lì in laboratorio da David e tavolino da fumo bruttissimo però i gambi erano molto bellini e li ho restaurati e ci ho creato una cosina che servirà per la mia casetta e con questo video vi mostrerò tutta la procedura che ha servito per farlo buona visione Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!